stiamo continuando la nostra campagna in cui gli andreati ci hanno attaccato perché l'america ha detto che sono fascista però io fascista qua non mi vedo ma forse per una bunkeria che è fascista ma non sono io però va bene comunque come andreato una grecia come potete ben vedere abbiamo anche detto nello scorso video e quindi ragazzi siamo in guerra contro tutto e tutti e mo dobbiamo vincere ecco il nostro obiettivo sperando che tutto vada secondo i miei piani e che è che la polonia non faccia la stronza anche se mo farà però noi proviamo a vede un po cosa intanto tanto niente sono è la merda è quello che posso attaccato come tana da ni manca per farti capire quando mi vogliono bene si stronti che poi non ho fatto niente che avessi attaccato qualcuno avessi fatto qualcosa va bene ma prendono niente niente non ho fatto un cazzo quindi la prima cosa dobbiamo vincere il nostro debito che ancora c'è ancora da fastidio però non è molto grande come anche volte e questa è un'ottima cosa forse una bomba su monta posso mangiare vai vai signori bomba su monta e quindi questo che non c'hanno aerei io direi che secondo me la francia tra poco ci dirà addio cazzo cazzo di a vaffanculo corte che schifo che casino di merda gli inglesi che rimangono a non fare niente c'è proprio strana sta cosa e non ci avranno un'organizzazione che attacco ci sono troppo unità su un settore piccolo pensi tu a difendere la costa della francia io penso a tenere i ribelli solo un secondo devo scegliere che divisione che è successo è indipendente si grande niz nanda è indipendente si finalmente perché non ho fatta io ovviamente cioè ho conquistato una anima anche quindi niz nanda ha fatto ok ma siamo liberi oh merda mi stanno attaccato dall'india in quando ha fatto l'india ma dove sarà per dei territori che non vogliono e che non vogliono un cazzo ho capito ma se avanzano devo difendere poche palle sono avanzate potete fare un potete una lasciata verso madrid però non so se ne vanno bene no no non fa nessuno ha lasciato e sto iniziando a costruire mia prima carrier di livello 4 sei troppo avanti con la flotta io sto a fa destroyer livello 2 poi metto oddio una divisione in teoria una divisione di tiger sta vincendo contro la decina di divisioni io sono troppo contentissima sono contentissimo dimostra la nostra potenza il sacco è pronto il sacco è pronto vedo ho fatto una bella tattica però sta andando a mano perché le divisioni vanno la trume non è che la camera è una bella tappa insomma è a suicidio però è andata quasi bene ok madrid è presa in teoria si e diamo viti ok quando voi facciamo un altro sacco cioè nel senso che attacchiamo il sacco ma che oggi non so farlo ma come mi piace per questa conquista della spagna che sta rilevando molto gratificante oh no voglio dire sì però ne costa spagnone chi ne dipende io e sto a fa un po' di divisioni oddio ma io ne sto facendo davanti quando scusami vabbè vabbè 68 sì in 13 divisioni con 13 divisioni ci puoi coprire molto di più no? posso coprire la parte di sotto della spagna eh meglio no? come vuoi? a me indifendendoci secondo me i 13 sono troppe per metterla e ora difendo tutta la parte di sotto aspetta allora gibilterra questo e questo ok fatto però Murcia lo difendo io per fatti capi fino a dove difendi i corti Mur- ah ok sì ok va bene va bene a me va bene io difendo invece granada andanusia e gibilter eh va bene questi tre eserciti che stavano in Pamonia mi porto un attimo in Europa e faccio un D-Day verso i Ginglesi che dici? se c'ha le risorse o le falle sia in teoria in teoria sì ce ne vede una pratica